Si rinnova un appuntamento tradizionale per la comunità di Santa Maria di Castellabate, quello della Stuzza? Sì, anche quest'anno siamo giunti alla 116esima edizione della Stuzza e vogliamo portare avanti questa grandissima tradizione. C'è una grande novità quest'anno per la tradizione della Stuzza, abbiamo fatto una collaborazione insieme alla parrocchia, è un appuntamento importantissimo per il nostro comune, per il nostro territorio e diciamo che quest'anno, anche già dall'anno scorso, la Stuzza va sempre avanti, però è cambiato il posto, purtroppo la facciamo verso la scogliera, distante il primo Lido, Lido Santa Maria. Vogliamo spiegare in cosa consiste questa Stuzza? La Stuzza è un palo di sapone lungo intorno ai 18 metri, pieno di sivo, sarebbe il sivo animale, è più il grasso delle macchine e ci sono dei 25-26 partecipanti che si contengono questo trofeo. Il trofeo storico della Stuzza sarebbe il primo posto più importante, anche se ci sono anche il terzo e il secondo posto che sono comunque dei trofei importantissimi. Già la gente qua a Santa Maria, mancano 7-8 giorni, già sta chiedendo di questo palo di sapone. Noi stiamo anche in lavorazione, in lavorazione di un altro palo già ordinato, diciamo da molto tempo, dobbiamo tenere sempre un palo di riserva se vogliamo che questa tradizione continua. Ci sono tanti giovani che partecipano? La mia mentalità è di far portare i giovani, perché ogni anno qualche partecipante giovane a livello di 18 anni, 19 anni, perché deve avere 18 anni per fare la Stuzza, mi fa sempre piacere inserirlo. Perché giustamente se vivo una persona, un quarantenne, un cinquantenne solo per partecipare, non serve più, perché mi servono i giovani che devono imparare che questa tradizione va avanti come sta andando avanti dal 1902. Fin quando mi dà la forza la Madonna, io la farò sempre, però è meglio avere qualcuno che apprende questa situazione, perché questa è una situazione, forse qualcuno non l'ha capito, ma è una cosa storica che qua dovrebbe diventare una specie di palo di siena, dobbiamo far diventare questa tradizione veramente spettacolare. Grazie.